Uno dei problemi della politica nel nostro Paese in questo momento ha due parole, superficialità da un lato e supponenza dall'altra. Supponenza di una certa classe politica che ritiene di poter fare con la cosa pubblica quello che vuole impunemente, superficialità di una certa opinione pubblica, di una certa cittadinanza che magari si indigna, che ha le idee chiare su quello che vorrebbe che accadesse, ma poi non riesce ad organizzarsi con determinazione, con ostinazione, con concretezza, con continuità per provocare quel cambiamento. Ed è proprio per contrastare la superficialità e la supponenza di una certa politica che la Fondazione Benvenuti in Italia ha accompagnato questa mattina Cinze e Fortunato Scafidi di fronte al Consiglio regionale del Piemonte. Il presidio di Via Alfieri è stato organizzato per sensibilizzare e sollecitare il Consiglio regionale sul tema della sicurezza a scuola. Oggi con il Presidente del Consiglio regionale, con i capigruppo di tutti i partiti politici, anche alcuni consiglieri, abbiamo chiesto che la mozione presentata da alcuni consiglieri regionali sia messa in testa all'ordine del giorno di questo Consiglio regionale e poi staremo a controllare, a capire questi soldi, se sono arrivati o meno e se questi soldi sono stati e verranno spesi nelle priorità indicate rispetto a queste scuole, a queste scuole che devono essere luoghi sicuri, luoghi di accoglienza, luoghi di crescita per i ragazzi. Non soltanto c'è una continua iniziativa da assumere per ottenere le risorse, ma quando le risorse vengono stanziate, come è accaduto nel caso del Piemonte, non corrispondono all'elenco delle situazioni più urgenti. Quindi su una materia come questa non ci vuole soltanto senso di responsabilità, che è la premessa fondamentale, ma anche molto rigore. Dopo la tragedia del liceo Darbin di Rivoli, infatti, sono state fatte tante parole, ma i fatti concreti sono stati pochi, come sottolinea Cinzia Scafidi. Il bilancio lo vedremo alla fine se davvero faranno quello che hanno promesso, quindi che oggi si parlerà di sicurezza nella scuola e se davvero prenderanno un impegno che si andrà a fondo a questa storia dei fondi. Perché se si fanno solo parole, come è successo già diverse volte, sono parole al vento e di parole non si aggiustano le scuole. Però noi siamo pronti a lottare.